L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato procedimenti nei confronti di Enel, Eni, Era, A2A, Edison, Achea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Secondo l'antitrassa sono oltre 7 milioni e mezzo i consumatori interessati alle variazioni di prezzo e 2,6 milioni, quelli a cui sono stati applicati aumenti ingiustificati. Le imprese dovranno quindi sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022. Grazie a tutti!